Un piccolo regalo, un gesto plateale o una cena romantica insieme. Non importa cosa, ma quello che conta è stare insieme nella giornata in cui si celebra l'amore San Valentino. L'importante è quindi avere un pensiero per la persona che si ama. Secondo una ricerca di Coldiretti, una persona su tre ha scelto di regalare al proprio partner un omaggio floreale, ma altrettanti sono coloro che hanno optato invece per un dono, un dolciume, un cioccolatino o piuttosto un gioiello. Ma vediamo come festeggeranno gli spezzini e cosa si sono regalati. Per la festa degli innamorati come festeggerete? Avete in programma qualcosa per stasera? Andiamo a mangiare la pizza. Quindi l'importante è stare comunque insieme? Sì, sì. L'importante è stare con le persone importanti. Visto il bel mazzo di rose che hai in mano, quest'anno deve essere stato un bel San Valentino. Come lo passerai questa sera? Eh, questa sera sono a casa, sinceramente. Non faccio niente di che. Diciamo che è già stata abbastanza. Hai ricevuto questa sorpresa quando? In che modo? Eh, non me l'aspettavo. È arrivato con le rose. Niente, mi ha fatto una sorpresa. Tra i piccoli gesti, ma sicuramente tra i più apprezzati, c'è quello di regalare magari qualche cioccolatino proprio per festeggiare San Valentino. Ecco, quanti sono stati gli spezzini che in questi giorni hanno deciso di fare questo regalo? Parecchi, parecchi. Gli spezzini non hanno mai rinunciato a questa festa e noi abbiamo sempre lavorato parecchio molto bene. Sia da parte maschile che da parte femminile. Non solo i maschietti, diciamo, che regalano la rosellina, ma anche le signore. Quest'anno sono sbizzarrite con scatole di cioccolatini. Quest'anno c'era una molto particolare, che era un cuore gigante di cioccolato al latte, ha avuto parecchio successo. Chiaramente i ragazzi sono quelli che danno magari più soddisfazioni alle fidanzatine, ai fidanzatini. Poi man mano che si sale con l'età si bada magari più al pensiero. Però comunque San Valentino è una festa che rimane attiva, diciamo, si lavora parecchio. Sicuramente l'omaggio floreale è uno dei più frequenti in questa giornata. Come è andata e qual è soprattutto il fiore che avete venduto di più? Le rose rosse in assoluto, bouquet, ma la rosa rossa è la regina dei fiori. E quest'anno è andata benissimo. Sono stati più gli uomini a regalare dei fiori a una donna o il contrario? In assoluto gli uomini, però anche le donne, anche le signore sono venute a comprare dei fiori per gli uomini. Negli anni la festa di San Valentino si sta trasformando sempre più, una festa in cui l'amore non è più concepito solo come quello verso il proprio partner, ma anche come l'amore per la propria famiglia. Beh, in effetti sì, quest'anno ci ha stufito proprio tantissimi ragazzini, ragazzine giovani, fare il regalo proprio alla mamma, al papà. Quindi è proprio un amore sbocciato proprio all'interno della famiglia. E questo penso che sia una cosa bellissima, di là poi del partner, come in effetti hai detto tu.